Presentando una seconda perizia di variante necessario per i lavori alla villa comunale. Sì, questa perizia ci serve sostanzialmente per ultimare i lavori del finanziamento erogato dalla protezione civile regionale di 1.140.000 euro che servirà ad adeguare sismicamente il fabbricato e a renderlo sede del centro operativo comunale in caso di calamità. Una variante che si è resa necessaria per tutta una serie di opere aggiuntive che bisogna assolutamente fare come il nuovo tetto, la sostituzione delle gronde, consolidamento di un solaio, sistemazione delle fondazioni, ancoraggio tra loro dei muri, insomma tutta una serie di opere che servono a rendere antisismico il fabbricato. Opere per circa 780.000 euro, sempre ricavate all'interno del quadro economico del finanziamento generale, rimodulato per far sì che questa struttura possa prima dell'estate restituire alla città il salone principale, i servizi igienici nonché l'atrio e tutto il giardino già comunque fruibile. Perché parliamo di un simbolo storico di Roseto degli Abruzzi? Il cuore pulsante della cultura rosetana è sempre stato, lo è e lo continuerà ad essere. Noi vogliamo che la villa torni nella totale fruibilità dei cittadini rosetani. Per fare questo occorrono purtroppo ancora 500.000 euro per risistemare tutti i locali, dal seminterrato fino al sottotetto e quindi lì poi avremo una struttura completamente antisismica per poter restituire quindi ai cittadini tutta la struttura nel suo complesso. C'è stato anche il ritrovamento di un importante affresco in un salone venuto fuori dall'abbattimento di una tramezzatura e di una controsoffittatura e anche quello è oggetto di perizia di variante perché è un affresco molto bello e quindi per recuperare quello e gli altri affreschi presenti all'interno della struttura occorrono almeno 50.000 euro che non possono far parte del finanziamento che ricordiamo è per l'adeguamento sismico, quindi fondi aggiuntivi che vanno trovati tra le pieghe del bilancio comunale. Grazie. Grazie.